Buonasera dal Tg6 in apertura l'anno giudiziario alto il numero dei ricorsi arretrati che però diminuiscono nel 2005 anche a causa dei costi e anche della crisi economica. Questo è uno dei dati emersi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel Tribunale Amministrativo Regionale. Sia pure in presenza di fattori incoraggianti rappresentati in un arretrato ridotto rispetto alla quasi totalità degli altri tar e da un numero di ricorsi definiti nel 2015 superiore a quello dei ricorsi depositati, le difficoltà sono evidenti e non siamo ancora riusciti a soddisfare l'esigenza del rispetto dei principi costituzionali e internazionali di ragionevole durata dei processi. Ha esordito così il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Antonio Micuzzi che ha oggi presieduto l'apertura dell'anno giudiziario 2016 davanti alle massi maturità tra cui il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. Il dato più significativo tra quelli snocciolati in sede di bilancio sull'attività svolta nel 2015 è che i ricorsi depositati sono stati 674 a fronte degli 895 dell'anno precedente. Una diminuzione, ha sottolineato Micuzzi, che dipende dalla crisi economica, che rende più difficoltoso il ricorso alla giustizia, visto che un ricorso al tar ha costi elevati. E paradossalmente questo ha aiutato a smaltire le pratiche arretrate. Nel 2015 i ricorsi definiti sono stati 732, le sentenze 640 e si è riusciti a far scendere il numero di ricorsi pendenti in attesa di definizione anche da anni. Entrando nel merito, anche nel 2015 la parte del Leone è stata rivestita da ricorsi in materia di edilizia, soprattutto nei cantieri della ricostruzione post-sismica, dove altissimo il contenzioso legato agli appalti pubblici, alle gare che valgono centinaia di milioni di euro. A seguire i ricorsi in tema di pubblico impiego, in riduzione i ricorsi dei cittadini extracomunitari e in tema di vertenze ambientali. Ed ora la sanità. Il consigliere regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, contesta il piano sanitario della regione e il rischio di penalizzare e declassare gli ospedali delle aree interne. Il servizio di Paolo Renzetti. Forza Italia torna a contestare aspramente il piano sanitario della giunta ad Alfonso. Il consigliere Lorenzo Sospiri, questa mattina in conferenza stampa, ha ribadito che rischierebbero il declassamento diverse strutture della Valle Peligna, del Pescarese e anche della provincia di Chieti. Sul Mona e Castel di Sangro verranno declassate da ospedali a poco più che ambulatori. La provincia di Pescara resterà con un solo ospedale di primo livello, con popoli e penne declassati o semi chiusi. In provincia di Chieti tutte le aree, a parte Chieti, Lanciano e Vasto, tutte le aree della provincia di Chieti saranno fortemente penalizzate. Pensiamo in particolare a Ortona. Il tutto per cosa? Per una riduzione di tasse? Per un aumento dei servizi o della qualità delle nostre strutture ospedaliere? No, le tasse resteranno sempre quelle aumentate, benché siamo in pareggio di bilancio. Dal commissariamento non usciamo perché sono dei pasticcioni incapaci ed in più otteniamo invece dei servizi in meno, che colpiscono soprattutto le aree interne. Ora, questo è inaccettabile. Ad oggi, sul pagamento e rimborso dei ticket sociosanitari, che vuol dire non far pagare a persone che stanno soffrendo, che stanno facendo una riabilitazione, una ignobile tassa su 10 milioni e 800 mila euro stanziati, grazie alle nostre battaglie, la regione Abruzzo ha pagato solo 286 mila euro. Io domando a qualsiasi cittadino della nostra regione, come fa una struttura privata che ospita, che dà prestazioni, che paga stipendi ad operatori a sopravvivere quando la regione Abruzzo da un anno non paga il dovuto. Forza Italia intende contrastare in ogni modo, fin quando ce ne sarà la possibilità, questo progetto a capo chino nei confronti di leggi del governo Renzi che vogliono distruggere la rete sanitaria della nostra regione, che è una regione che ha già fatto tanti sacrifici. Meno di 60 minuti tra Roma e l'Aquila sfidando le lancette dell'orologio a bordo di una potente Lamborghini della Polizia di Stato per trasportare un rene da trapiantare all'ospedale San Salvatore del capoluogo regionale abruzzese. La vettura di alta cilindrata della Polizia è partita dall'ospedale Umberto I di Roma ieri pomeriggio con a bordo, ben custodito e protetto in uno spazio della vettura appositamente attrezzato, il rene prelevato da un donatore di Roma è destinato al trapianto all'Aquila, l'utilizzo della Lamborghini si è reso necessario, ma non è certo la prima volta per fare in modo che la chirurgia del San Salvatore, dove è stato effettuato il trapianto, avesse disponibile l'organo in tempo utile, la persona a cui è stato trapiantato il rene che si affrancherà così dalla schiavitù della dialisi a una donna di 57 anni del Lazio. Subito dopo la comunicazione della disponibilità dell'organo, ieri sono state attivate tutte le operazioni per trasferire la donna dal Lazio all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Udienza pubblica oggi alla sezione regionale della Corte dei Conti chiamata ad esprimersi sul riallineamento contabile del bilancio regionale 2013 proposto dalla Giunta. Vediamo. Una vigilia carica di sospanza alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nel corso dell'udienza pubblica in attesa della sentenza sulla parificazione del rendiconto 2013 della Regione Abruzzo, ovvero sulla veridicità dei vecchi bilanci di previsione che si teme, e forse più di un sospetto, sono stati gonfiati con crediti inesigibili e altre voci in entrata del tutto aleatorie e incerte. Un giudizio negativo sulla correttezza di bilancio ed anche sul riaccertamento proposto dalla Regione sui conti del 2013 che è stato ribatito nella sua relazione introduttiva dal procuratore regionale Maurizio Stanco e di cui ha preso atto il presidente della sezione regionale di controllo, Maria Giovanna Giordano. Purtroppo dobbiamo rilevare che mentre le nostre consorelle sezioni di controllo regionali si apprestano a parificare il rendiconto 2015, noi siamo qui attestati sul 2013, abbiamo registrato tutta una serie di ritardi e netempienze. Ci sono dei residui attivi e dei residui passivi il cui riaccertamento è stato un po' frettoloso e su queste perplessità noi svilupperemo la Camera di Consiglio e la decisione finale. In prima fila da ascoltare l'assessore regionale al bilancio Silvio Palucci che sottolinea stiamo mettendo mano a conti inaffidabili lasciati da chi ci ha preceduto. Conosciamo i rilievi perché è stato un confronto attivato dal mese di settembre del 2015 e in qualche modo la regione ha controdedotto, ovviamente facciamo riferimento a bilanci di altra legislatura e di altra epoca, il compito che noi abbiamo di fronte e come abbiamo già dichiarato alla Corte dei Conti è quello di concludere il riallineamento dei documenti contabili ma allo stesso tempo portiamo anche, penso, come credibilità e serietà il fatto per esempio che nel bilancio di previsione abbiamo accantonato circa 80 milioni di euro. Dobbio a sussistenza del reato, profili di leceità che non rendono alle risultanze istruttorie accusa inconsistente. Sono alcuni dei motivi che hanno portato all'assoluzione dell'ex assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni dell'imprenditore Rodolfo Dizio del parlamentare Fabrizio Di Stefano e dell'imprenditore Ferdinando Ettore Dizio e l'ex amministratore delegato della Team Vittorio Cardarella nell'ambito della cosiddetta rifiutopoli abruzzese. Il servizio di Elisa Liuz. I profili di illiceità messi in evidenza dall'accusa non reggono alle risultanze istruttorie. Un concetto chiaro e conciso che il giudice Rossana Villani, estensore delle motivazioni della sentenza sulla cosiddetta rifiutopoli abruzzese, ribadisce a più riprese per spiegare in una cinquantina di pagine perché l'ex assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni, l'imprenditore Rodolfo Dizio, il deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, l'imprenditore Ferdinando Ettore Dizio e l'ex amministratore delegato della Teramo Ambiente Vittorio Cardarella sono stati assolti tre mesi fa dal tribunale collegiale, presieduto da Angelo Zaccagnini. L'inchiesta dei PM a Narita Mantini e Genaro Varone ruotava attorno alla realizzazione dell'impianto di bioessicazione a Teramo. Gli imputati erano accusati a vario titolo di corruzione, istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, peculato, turbativa d'asta, millantato credito. Nello specifico, il tribunale ritiene che gli elementi di carattere sospetto costituiti dalle mail e dal contenuto delle intercettazioni non sono sufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato, pur disvelando le mire espansionistiche di Deco Rodolfo Dizio. Per quanto riguarda i finanziamenti di Dizio al partito cui apparteneva Venturoni, il collegio sottolinea che, dal complessivo quadro delle risultanze istruttorie, non emerge la prova di versamenti irregolari né di contributi elettorali che risultino con ragionevole certezza contropartita di accordi di natura corruttiva. Giudizio perentorio anche sulle presunte pressioni che, in cambio di contributi elettorali, sarebbero state esercitate dal parlamentare Di Stefano per esautorare Riccardo Lamorgia dalla presidenza del Consorzio dei Rifiuti Lanciano. I giudici sostengono che le complessive risultanze istruttorie sono tali da non rendere condivisibile la ricostruzione del PM. Sulle presunte pressioni di Di Stefano per la modifica della legge necessaria per consentire la costruzione dell'inceneditore, il Tribunale afferma, appare chiaro che, se di pressione si può parlare, esse non sembrano idonee a configurare oggetto di scambio corruttivo. In ogni caso, si legge nelle motivazioni, lo scambio corruttivo formulato nel capo di imputazione non è lineare e plausibile, in quanto non era nei poteri di Di Stefano incidere sulla modifica della legge regionale, da demandare necessariamente al Consiglio regionale, in quanto prerogativa consigliare. Ancora il caso Ryanair. Dopo le lettere inviate dalla compagnia low cost ai dipendenti per chiedere di scegliere la nuova destinazione, vista la chiusura della base di Pescara, intervenire il presidente dell'aeroporto d'Abruzzo, Nicola Mattoscio, che dice massimo impegno per cercare di evitare la dipartita di Ryanair. Vediamo. Presidente Mattoscio, sono arrivate le lettere ai dipendenti della Ryanair per il trasferimento, però la regione continua a lavorare per scongiurare l'addio della compagnia irlandese dall'aeroporto di Pescara. Le procedure che Ryanair sta seguendo sono quelle di rito inevitabile nel momento in cui la compagnia ha assunta la decisione di lasciare lo scalo abruzzese. Ma i rapporti continuano come non si sono mai interrotti. Già prima della decisione la saga stava portando avanti con non poche difficoltà, ma con grande determinazione il confronto con la Ryanair per provare a continuare, a far continuare questa partnership così virtuosa per la nostra regione. E reputo che ci siano ancora tutte le condizioni affinché questo confronto possa avere esiti positivi. Proprio ieri ai nostri microfoni il consigliere delegato dei trasporti Camillo D'Alessandro aveva detto i soldi ci sono, li abbiamo trovati, ora ci sono i tempi tecnici da rispettare. I tempi tecnici sono brucianti come si dice perché nel settore dell'aviazione civile la pianificazione delle attività avviene in genere l'anno prima per l'anno dopo e dunque occorre fare presto. I soldi non sono un problema perché occorre convincersi che qualunque investimento pubblico nella dimensione anche già sperimentata risulta essere un ottimo investimento relativamente alla sua capacità di efficientamento e di valorizzazione dell'economia e del territorio regionale. Voi state comunque lavorando, proprio nei giorni scorsi avete anche parlato del nuovo volo che ci sarà Pescara Olbia. Sì, era un'attenzione rivolta a lungo da parte della comunità di Abruzzesi in Sardegna o di Sardi in Abruzzo e anche da parte di numerosi operatori economici affinché si ristinasse un contatto almeno per la stagione estiva con quella importante isola. Continua lo scontro tra associazione ambientalista e gestore dell'autostrada dei parchi sul progetto di messa in sicurezza dell'asse viario che collega Roma all'Abruzzo. L'amministratore di strada dei parchi Cesare Ramadori in una nota sottolinea la necessità del progetto è nata a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile 2009 e che ci sono state una serie di interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti e che strada dei parchi ritieni che sia necessario mettere in sicurezza il tracciato autostradale che essendo stato progettato negli anni 60 è oggi fuori norma attraverso la realizzazione di alcune varianti al tracciato attuale. Autostrada dei parchi ricorda inoltre nella nota che c'è stata una riunione l'8 ottobre 2015 alla presenza della regione Lazio-Abruzzo in cui è stato rappresentato il progetto con le varianti. Il comune di Pineto ha vinto la lunga battaglia legale partita nel 1999 contro l'Eni per il riconoscimento delle sommeici non pagate dal 1993. Per il comune Terramano potrebbero arrivare 33 milioni di euro e intanto la sentenza della Corte di Cassazione è destinata a fare giurisprudenza. Alfredo Primante. A distanza di 17 anni si chiude il contenzioso tra Eni e comune di Pineto con la vittoria dell'amministrazione oggi guidata da Robert Verrocchio. La Suprema Corte ha deciso che Eni deve corrispondere al comune di Pineto Lici relativa agli anni dal 1993 al 1998 notificata al colosso petrolifero italiano tramite un accertamento risalente al 1999. Secondo la sentenza destinata a fare giurisprudenza e quindi a costituire un precedente per altri comuni italiani. Le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'imposta ICI e sono classificabili in categoria D7. Per tanti anni la battaglia è andata avanti con il presupposto che queste piattaforme non fossero accatastabili. Oggi la Cassazione invece ribadisce che le piattaforme sono accatastabili e che il valore imponibile sul quale poi va calcolato l'ICI fa riferimento ai valori contabili. Sono svariate decine di milioni di euro oggetto di accertamento, di ricorso, di interesse eccetera, però adesso non abbiamo contezza di questo importo. L'Eni cita la legge di stabilità ma la Cassazione si è pronunciata su questo, per cui per quanto riguarda questo giudizio vige il giudicato della Cassazione. Per quanto riguarda gli altri giudizi vedremo come e se è applicabile la legge di stabilità in relazione alla pronuncia della Cassazione che farà, se non Stato, avrà il valore di principio anche per gli altri giudizi. Rifondazione Comunista contesta il piano regionale sui rifiuti. Chiesta risponde urgenti a una richiesta urgente di rispondere alla Regione. Vediamo. Acerbo, Rifondazione Comunista ha presentato nei giorni scorsi un dossier sulla gestione dei rifiuti nella nostra Regione. Cosa è emerso e cosa è scritto in questo dossier? Noi siamo molto preoccupati perché la Regione Abruzzo con molto in ritardo soltanto a dicembre aveva avviato la valutazione ambientale strategica sul piano regionale dei rifiuti che va adeguato alle direttive europee. Siccome abbiamo appreso con una nostra inchiesta che la DECO ha commissionato una società, la Genia SRL, uno studio relativo appunto a come riorganizzare l'assetto della raccolta dei rifiuti dello sbaltimento in Abruzzo, il dubbio ci viene sia perché il privato ha commissionato questo studio ma anche perché abbiamo notato che i fondi FAS che erano stati stanziati anche su nostra pressione, anzi soprattutto nella precedente legislatura per realizzare questa impiantistica pubblica, sono stati tutti stornati dalla giunta d'Alfonso. Quindi facendo una sintesi, che cosa accade? Che se gli impianti pubblici non ci sono il pubblico nelle province di Pescara, Teramo e Chieti non potrà che rivolgersi al privato e che la sospensione del piano serva proprio a questo. Ovviamente attendiamo che i nostri cupi presaggi siano smentiti dal governatore D'Alfonso o dal sottosegretario Mazzocca. Lunedì speriamo che nel Consiglio regionale si faccia luce su questa vicenda che sinceramente suscita molte molte perplessità. Non vorremmo che, finiti a Tarallucci e Vino i processi, si ritorni all'antico. Restiamo sul tema ma ci spostiamo a Montesilvano dove l'amministrazione comunale ha ufficialmente disposto la risoluzione del contratto con la Tradeco, società che si occupa di raccolta e gestione dei rifiuti con una determina firmata dal dirigente del settore patrimonio, attività tecnologica e protezione civile. Il contratto con la Tradeco venne stipulato il 15 novembre 2013 e il servizio preso il via a febbraio 2014. Lo scorso 28 dicembre gli uffici tecnici avevano avviato il procedimento a seguito di una serie di inadempienze contrattuali relative all'incompleta effettuazione della campagna di informazione, comunicazione ed educazione ambientale prevista e al mancato rispetto del contratto di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i ritardi di pagamento degli stipendi a cui hanno fatto seguito diverse proclamazioni e stati di agitazione. In tutto il 2015 il Comune ha elevato, nei confronti della ditta di Altamura sanzioni per un totale di circa 90.000 euro. Un'altra notizia, oncologia biointegrata, un convegno domenica 28 febbraio a Pescara nell'Aulamagna Safar. Si parlerà di nuove prospettive in oncofitoterapia la prossima domenica durante un convegno organizzato dalla sezione di oncologia biointegrata della Cimeb e dell'Imeb, Istituto di Medicina Biointegrata. Tra le relazioni in programma il dottor Mastro Donato curerà un'introduzione sull'oncologia biointegrata, il dottor Occhionero invece parlerà di fitopreparati in campo oncologico e infine il del Trigno M, potenzialità dell'attività antitumorale e dei risultati della ricerca dove a intervenire sarà il dottor Pagliaro. L'evento aprirà una serie di convegni destinati principalmente a medici e farmacisti che saranno svolti nei prossimi mesi in tutta Italia per fornire direttamente gli aggiornamenti alla luce delle ricerche svolte presso l'Istituto Superiore di Sanità. I toni si sono alzati troppo ma noi abbiamo chiesto soltanto dei chiarimenti su alcune criticità. Interviene così sulla vicenda del bando per la gestione dello stadio Angelini l'assessore allo sport del comune di Chieti Antonio Viola dopo che il patron della società Neroverde due giorni fa ha dichiarato di non essere più interessato alla gara. Andrea Costantini. La vicenda del bando di gara per l'affidamento della gestione dello stadio Guido Angelini di Chieti è una tempesta in un bicchier d'acqua. Esordisce così l'assessore allo sport Antonio Viola a due giorni di distanza dalla presa di posizione forte del patron della Chieti Calcio Giorgio Pomponi che ha battuto i pugni sul tavolo dichiarando di non essere più interessato alla gestione dell'impianto e che a maggio lascerà il Chieti. L'assessore Viola affiancato dal dirigente comunale del settore sport nonché presidente della commissione giudicatrice del bando Paolo Intorbida ha ribadito che sono stati chiesti solo dei chiarimenti alla società Chieti Calcio l'unica che ha risposto a quel bando precisando che la gara è ancora aperta e tutto questo rumore in questa fase è anche inopportuno. Chiarimenti previsti all'interno del bando di gara su quelle che la commissione ritiene essere delle criticità nel progetto presentato e che si sostanziano in tre punti mancanza di planimetria e area per la realizzazione di un nuovo campo differenza notevole tra i costi di gestione stimati dal comune oltre 250 mila euro e quelli stimati dalla società 90 mila euro e la mancanza della voce introiti per l'utilizzo dello stadio da parte di altre società tenuto conto che il bando prevede che il soggetto gestore vincitore del bando debba garantire l'uso dell'impianto alle tante altre società che operano da tempo sul territorio. Il sindaco di Primio ieri ha scritto sui social che Pomponi fa poco il serio, a cosa si riferisce? Ma io non so a che cosa si riferisce il sindaco, io tra l'altro stiamo in una fase abbastanza delicata con una gara ancora aperta per cui in certi toni è preferibile magari smorzarli ed aspettare le risposte che la Chieti Calcio vorrà dare ai chiarimenti richiesti dalla Commissione. Cosa si sente di dire per i tifosi che abbiamo visto, hanno partecipato a questa conferenza, hanno espresso tutta la loro preoccupazione perché dicono alla fine ci rimettiamo noi? Ma io innanzitutto sono abbastanza fiducioso che la questione possa trovare una soluzione e di aver fiducia perché comunque noi stiamo agendo nell'interesse per il bene della città di Chieti. Ed ora il Pescara che prepara il suo match contro l'Ascoli senza il suo capitano Memusha è probabile la presenza contemporanea e mediana di Torreira e Mandragora in difesa a coda favorito su Fornasier e l'allenatore Massimo Oddo ammonisce anche i suoi perché la partita col piccio sarà diversa da quella di Cagliari. Ascoltiamo. Quello che non deve mancare è l'approccio, la mentalità e il coraggio che abbiamo avuto a Cagliari. Quelle non devono mancare mai. Poi ogni partita ha una storia a sé, sarà una partita completamente diversa, una squadra completamente diversa e contro una squadra completamente diversa e quindi di conseguenza la partita sarà tutta un'altra storia. Però non è così scontato che dopo una prestazione del genere tu possa riperderne un'altra in tal senso anche e soprattutto perché le condizioni della partita sono condizioni completamente diverse. L'Ascoli è in un momento credo positivo, viene da buoni risultati, è una squadra che ha bisogno di punti e quindi di conseguenza non credo che sia la squadra che venga qui a giocare a viso aperto, credo che sia la squadra che venga qui a cercare di portare via dei punti, soprattutto con l'idea di difendersi per poi cercare di colpire sulle ripartenze in contropiede. Per noi tutte le partite sono uguali, per me gioca chi sta bene, quindi se la padula sta bene gioca, se vedo che è stanco o che ha dei problemi gioca un altro, ma non guardo la prossima partita, guardo partita per partita anche perché abbiamo necessità di vincere, sono state fatte delle leggi, vedi, tessere il tifoso per consentire ai sostenitori delle proprie squadre di seguire la squadra, se si fa una cosa del genere e poi non gli si consente di andare in trasferta è una cosa che non ha senso. Cioè c'è il bellotico tutto questo? Sì, sì, e quindi ne viene meno lo spettacolo, a me dispiace per i tifosi in generale, poiché siano del Pescara o dell'Ascoli che comunque sono sempre tifosi, in questo caso dispiace come è dispiaciuto per i nostri tifosi in occasione di Salerno e altre trasferte. La ritengo una cosa ingiusta. E dopo la vittoria sul Como, l'Ascoli prepara la partita con rinnovato entusiasmo, non ci saranno i tifosi marchigiani all'Adriatico per motivi di ordine pubblico. L'attaccante Caccia in settimana si è allenato bene, ma i bianconeri dovrebbero giocare con una sola punta, ovvero Petagne. Adesso ci ascoltiamo anche il tecnico, Davis Mangia. Mister, su Ascoli viene da una mini striscia positiva, due parigi e una vittoria. Avete finalmente trovato la quadratura del cerchio dopo la chiusura del caccia mercato invernale? Dovremmo confermarlo tutte le settimane, però, perché la regola è questa. Per questo campionato serve continuità, a prescindere dalle partite. Dobbiamo continuare intanto a dare continuità di prestazioni, e di conseguenza poi probabilmente arrivano anche i risultati. Le insini del match con il Pescara, una squadra che ha dato spettacolo per un'ora a Cagliari. Sappiamo il valore della compagine di Oddo, come la andrete ad affrontare? È una squadra importante, ha delle caratteristiche belle, anche da un punto di vista estetico. Penso che sia una delle squadre che gioca meglio in questo campionato, sia per l'idea, sia per la qualità tecnica dei giocatori che ha a disposizione. È una squadra che sta facendo molto bene, noi andremo ad affrontarla con le nostre caratteristiche. Come avete lavorato in settimana e quali novità ci sono dall'infermeria, su quali giocatori non potrà contare? Lavorato bene, fermi ci sono, come sapete, Altobelli e Mengoni, per i problemi che conoscete. In più, Carpani non ha recuperato da una botta che ha preso nella gara quando è entrato sabato. e anche Doudou ha un affaticamento, quindi questi quattro. Come sta Caccia e se possiamo a questo punto vedere le due punte all'Adriatico? È una possibilità, lui Daniele è stato fermo per quel periodo, è rientrato sabato, adesso si è allenato con continuità questa settimana. È una possibilità, o dall'inizio o dopo, però è un'opportunità. Dopo lo stop di La Spezia, la Virtus è chiamata a fare punti. Il prossimo match è quello con il Bari, arriva con tanti ex. Il tecnico di casa Maragliulo rilancerà Di Matteo a sinistra con lo spostamento a destra di Salviato. Ascoltiamo. Nella gara dei tanti ex, la Virtus Lanciano cerca punti salvezza contro il Bari. Per l'occasione il tecnico primo Maragliulo non dovrebbe sconvolgere l'assetto di squadra visto nelle precedenti tre esibizioni con lui in panchina, rimandando propositi di mini-turnover martedì a Como. La novità sarà il rientro di Luca Di Matteo sull'out di sinistra con lo spostamento sul fronte destro per lui più naturale di Salviato. Dovrebbe farcela ad essere della contesa Mattia Vitale che non ha vissuto una settimana a pieno regime a causa di un affaticamento muscolare ma va verso la conferma a fianco di Rocca. Il Bari è avversario duro sulla carta ma Maragliulo pensa poco alla forza altrui e si concentra sulla sua squadra. Sappiamo benissimo che anche il Bari è una squadra di grandissima qualità una squadra importantissima però non possiamo ripetere sempre le stesse cose. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di allenarci al mille per mille e poi di andare a campo per cercare di vincere la partita. Detto questo poi ci sono gli avversari che vogliono fare lo stesso e non sarà facile però il nostro obiettivo unico deve essere solo ed esclusivamente quello. Quando la mia squadra scende in campo e scenderà determinata e convinta di poter ottenere il risultato le cose degli avversari chiaramente poi mi interessano fino a un certo punto. Al Biondi tornerà da ex il tecnico Andrea Campione che tornerà a sedere sulla panchina del Bari dopo la pausa forzata della settimana scorsa per via di un malore che lo ha tenuto in ospedale fino a martedì scorso. Sarà la terza volta che Campione verrà al Lanciano d'avversario. I precedenti parlano di due pareggi Lanciano-Cavese 0-0 nella stagione 2008-2009 e Lanciano-Perugia 1-1 lo scorso anno. Non ci sarà invece il bomber Riccardo Magnero che sempre ad inizio settimana ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio che lo terrà fuori per alcune partite. Sarà la zanzara De Luca da gire da centravanti con supporto di Rosina e uno tra Puskas, Boateng e un altro ex, Sansone. Dirigerà l'incontro a Ross della sezione di Pordenone. Si è svolto nel pomeriggio il dibattimento del processo sportivo d'appello per la vicenda di RT Soccer. L'Aquila Calcio punta ad avere uno sconto della penalizzazione inflitta in primo grado e anche uno sconto per il Teramo che aspetta la pronuncia della Corte federale d'appello sul giudizio di rinvio. Ma domani è ancora campionato, l'Aquila ospita il fattore il tutto cuoio alle 15 e invece domenica alle 17.30 toccherà il Teramo che al Bonolis aspetta la maceratese e potrebbe trovare spazio anche il giovane centrocampista Paolucci viste le squalifiche di Cruciani e Scipioni. Allora noi lo ascoltiamo. Ma l'Upa Roma veniva da 6-7 risultati utili come noi. Era un avversario difficile da affrontare e non ce l'aspettavamo che aveva questa grinda e questa cattiveria e forse quella che è mancata a noi per vincere la partita. Speriamo che il mister mi butta dentro, però lui fa le sue scelte e noi stiamo sempre a disposizione e pronti. Ma il mister fa le sue scelte. Io quel ruolo l'ho fatto anche altre volte e se il mister mi metterà in quella posizione cercherò di dare il meglio e di fare bene. Ma diciamo do un sì, non mi aspettavo di giocare tutte queste partite, però sono contento e spero di queste partite che avvengono di far meglio e di trovare il primo gol stagionale. E con lo sport si conclude anche la terza edizione del TG6. L'appuntamento con l'informazione torna domani puntuale alle 14. Buonanotte. Grazie.